L'integrazione delle diversità attraverso sport, tradizioni e solidarietà. E' questo l'obiettivo della Spaghettata di Mondolfo, manifestazione prevista per il prossimo 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Sì, siamo qui per un evento importante che ci sarà il 2 aprile perché c'è la tradizionale Spaghettata, quindi è la 71esima edizione, come si diceva prima in conferenza, quindi è un evento già importante di suo che però si aggiunge con altri eventi importanti dal punto di vista sportivo, dal punto di vista della solidarietà. L'evento prevede lo svolgersi nell'arco della giornata di diverse attività, tra le quali la mezza maratona Mondolfo Marotta, organizzate grazie alla sinergia di importanti realtà come Avis e Onfalos, presenti e attive socialmente nel nostro territorio. Il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e ci sarà la mezza maratona, quindi una gara competitiva di 21,5 chilometri. Verrà coinvolta tutta la cittadinanza ma anche tanti cittadini e tante persone atletiche verranno da fuori comune, quindi questo è molto importante per noi.